Ha scritto una lettera a una delle nove persone coinvolte nel caso della somministrazione di fisiologica al posto del vaccino, indirizzandola alla ASLE per conoscenza alla stampa. Sono Mirko Scaramucci, ho 31 anni, scrive. Con la presente intendo esprimere tutto il mio stupore sconcerto per quanto mi è accaduto, premettendo che non sono una persona che ha manie di protagonismo, né tantomeno un esibizionista. Ci manca solo che venga fondato anche un movimento Noacqua Sivax. L'incipit è questo. Mirko prosegue poi raccontando quanto accaduto. Da prima ho pensato ad uno scherzo di mia madre, scrive. Poi, quando ho capito che era tutto vero, potete immaginare come mi sono sentito. Dovrò stare altri 15 giorni o più con l'ansia e il timore di non sapere cosa mi è stato inoculato. Stando attento ad ogni sintomo, visto che anche il medico del centro vaccinale mi ha consigliato di stare attento ad eventuali sintomi strani tipo febbre ed altro, perché in quel caso sarei fortunato, poiché vorrebbe dire che ho ricevuto la siringa giusta. Signor direttore, signori dirigenti, scrive Mirko, cosa sarebbe accaduto se anziché la fisiologica mi avessero iniettato un altro farmaco? Sono consapevole che la sanità italiana è un'eccellenza a livello mondiale e che la maggior parte degli operatori sono ligi al loro dovere con sacrificio e passione, specie in un periodo come questo. Mia madre è una OS. Ma troppe volte gli errori che accadono nel vostro settore, come in questo caso, sono classificati e giustificati con la famosa e sempre di moda frase errore umano. Parola troppo generica, che vuol dire tutto, prosegue Mirko, e niente. Purtroppo nel vostro settore gli errori umani non devono e non possono accadere.